Pure te no alla fiesta Ho ammazzato l'altro pure Oh mio dio cosa ho fatto Oh mio dio Boom Salutami Oh mio dio che predict Boom E mi danno il benvenuto così Certo Allora avevo in mente di fare qualcosa di carino Ma qua la vedo un po' dura Ho bisogno di persone da obliterare Tu sei il primo? Uuu no no di pochissimo Stavo per fargli il counter in una maniera stupenda Attenzione interrotto in questa maniera Attenzione Attenzione arriva anche il cestino Oh mi sta a rubare la chi questa Oh È la mia Genos Vi odio Ok attenzione E Salutami Ottima idea andarci addosso Ma cos'era sta roba? Ma è ubriaco È ubriaco Cosa sta Ah Eh no eh No Vai Vola su Così No 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 Aspetta Si sta facendo male No devo riuscire a Vabbè devo riuscire a fare un 1 contro tutti E facciamo un 1 contro tutti Ok no Sta andando seriamente male Per un 1 contro tutti Ehi 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 Ah ma state a timma State a timma vedo Timma su questo Eh vabbè No ma siete seri Ah No 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 Eh 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 Quanti Quanti oh mio dio Ok Eh fatti Sì Cosa flexi Oh mio dio In quanti sono per me Ah giustamente La situazione si mette molto male La situazione no è Es muy caliente Ai 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 Ouch Ha Ok Ehi Ehi Con calma tutti quanti Ehi No Eh vabbè Eh vabbè ma siamo Oh mio dio Eh sì vabbè Ok D'accordo Uno contro tutto il server Non ho la suprema ancora vero No col cavolo che ho la suprema Amico Vola Che c'è Ah Vabbè Mi sa che Mi ha rubato un tantino Da chi Come si suol dire Ma vado un po' Brustuito Signore Eh 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 Con calma Tutti quanti Con calma Con calma Con calma Salutami No No Mio dio Che predict Boom Ma questo da mettere Nella short Una roba del genere Ehi Ok Eh no però eh Eh Come ho Amo Amo Scim De Aia Ai 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 Eh dai Fratelli Siamo seri No What Eh vabbè quanti Oh mio dio Ma siamo seri Una roba del genere No Di pochissimo No Eh giustamente Pure Ok Cosa c'è Non sapevi che questa Mostra Ferma La tua suprema Ha Oma Wamu Shindiru Un Due Tre Quattro A cosa serve La tua suprema Ah Cosa Il leggendario Colpo wireless Era questo Era il leggendario Colpo wireless Così Posso controllare questo Ah Ma D'accordo Ha preso l'al Ok Ha preso me Non mi hai ammazzato Te amico mio Però D'accordo Shindiru Ok D'accordo Dai vola Vola tesoro Ai 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 Vi prendo sberto Ah mi prendo sberto Eh se volavete smetta di andarmi Adosso In 50.000 D'accordo Però Capisco Che siete dei nabbi E non ce la fatte Senza far comunella In continuazione Però Però Eccolo Eccolo un altro Eccolo il tratto Pogiglio Eccoli Eccoli qua Cric e croc Dai Sparisci Ok Ok Basta Basta Vabbè pure Ouch Vola Giustamente Adesso No Che scatole Però sempre si due Ok Ehi Ehi Oh mio dio Ma siamo seri Ma Vabbè manco mi aveva preso D'accordo D'accordo Ma siamo seri Siamo seri Davvero Wow Ok D'accordo Va bene Ma cos'è Sono tipo dei fan Degli haters C'è un bel cosa Guardali Guardali Convintissimi Ecco Ma proprio no Non ce la fanno Aia Eh giustamente Arriva anche l'altro Quello è morto Eh beh gli sta Ok Eeeh Non è successo Ok Questo l'ho visizionato Praticamente Vai Sei colo suprema Zio Vai Oh no Au Come D'accordo Va bene Eh Fa giustizia Bene così Ce l'hanno solo commesti qua Salve posso picchiarla Posso picchiarla un attimo Adesso posso picchiarla No O si offende pure lei Ah giustamente Adesso ricominciamo con queste cose Ok 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 d'accordo Sono ancora vivo Non so come Non lo so Ancora Yecce Yecce No Accidenti ma siamo seri Ah Te eri uno di quelli di prima Vero Adesso Imparerai a volare Perché facilmente Ti spunteranno le ali E Vola Au 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 Mau Mua Mu Shindiru Mau Mu Shindiru Eh no Ma siamo seri Ehi 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 No Avevo fatto il mega counter Stratosferico Avevo fatto il mega counter Stratosferico Ma mi sai che l'avevo ucciso io nel mentre Mi sai Io voglio farò un video tranquillo Che hanno giarrato sto coso Ma arrivano addosso Io rimango fermo qua no Io rimango fermo Quando ti arriva o no Io rimango sempre Auc Ah Ha preso Saitama adesso Ah ok Wow Ok Eh vabbè Ok d'accordo Counter No Non l'ho fatto in tempo Dannazione Ah Ok Non l'ho fatto in tempo Non so se avrebbe funzionato come cosa Ma counter arriva in una finale Così sarebbe stato A dire poco Ma siete seri Ma siete seri Ma siete seri Eh che cavoli Via Oh mio dio Aia Au 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 Ok ho fatto fuori uno Ho fatto fuori due Un po' più cibi No Noo di pochissimo Ah non è morto questo No ma siamo seri È arrivato un altro Oh mio dio Siamo seri Contro sti qua Che continuano Non ce la fanno Non ce la fanno Continuano a tornare come se fossero Niente Dei funghi Ok Ve la potete smettere Ok Sto chiedendo pure gentilmente Non capiterà altre volte Ok Va bene Va bene D'accordo Ecco Dopo ti sta bene Quello Ok Ok Cioè io senza Io non ho neanche una suprema Vorrei Vorrei renderlo effettivamente conto Di questa cosa Ecco Ecco di nuovo D'accordo D'accordo Signori Au au Aia Aia Niente Eh mi devono interrompere le masse Perché sti qua giocano in due E quindi sai È un attimo Ok 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 Non lo vedo E di nuovo No ha preso l'altro No Si sono ammazzati a vicenda Ok No Sì Il counter perfetto Aia Aia Amico Stai ammazzando me adesso Eh Eh Ok No No Aia No Quello è morto Ok Attenzione Eh no eh Pure te no eh Pure te no alla fiesta Ho ammazzato l'altro pure Oh mio Dio cosa ho fatto Oh mio Dio Boom Aia E vabbè adesso ci sta che muoio Cavoli Eh ma siamo seri Ma ce l'hanno tutti quanti con me Cos'è sta roba Andatevene Ecco Ecco Oh Oh Aia Eh ce l'hanno fatta uccidermi di nuovo D'accordo D'accordo Oh mio Dio Ma con quante violenza Eeeh Ma mi Sei scarso Ok vai uccidili Vai fratello Ah Sono morto Ma sono morti anche loro No Ancora no No Ho preso me No Dannazione Ouch Eh infatti l'ha detto No Ok Oh mio Dio Sono salti a livelli assurdi Guarda lì Ok Guardalo Oh mio Dio Ok Ah Riflessione del jaguaro Le mie tecniche segrete Aia Ok Non mi hanno potuto parare Da queste No bro Prendi Bravissima No Non sono uscito Vai 1 2 3 Vola via Ok Questa cosa non sono uscito Parla Aia Vabbè Vabbè Le esplosioni subatomiche pure Ah Sono vivo Sono vivo Sono morto per via di quest'altra roba Fantastico D'accordo No Non posso Non posso andare a alti così però che roba è Ouch 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 Ma Potrebbero anche Io sono stato mezz'ora a saltare Ora va bene Ma va 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 Per rendere conto Delle enormità delle cose che mi stanno utilizzando addosso Ma dai fratello E ovviamente arriva l'altro Momamu Shindiru Ok Guarda che predicto Guarda cosa ho fatto Non lo so neanche io cosa ho fatto Ok Vai Butta su Saturno Così Nice Nah È tornato il collega No Ok D'accordo Adesso quello è arrivato con Genos Mi sembra più che giusto Aia 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 E vabbè Dai ma siamo seri Ma siamo seri Ma che mi vuol dire Sì qua Vabbè Ma scemi proprio Ok Va bene Contento te Contenti tutti Momamu Shindiru E ovviamente Arriva l'altro Ok Sei risolto per il meglio Ma è bello che fanno pure schifo Cioè non sono forti Sti qua Non sono forti Guarda lì Ok no L'esplosione non la posso proprio counterare Oh mio dio Siamo seri Ma vabbè Ammazzato il calcio migo Wow Ma è bravissimo Sto tizio Ma guarda che roba Mi ha preso tantissimo Mi ha preso tre volte tipo Ma mi ha preso di nuovo Wow Ma è fortissimo Ah no Ah no Sbagliato Sbagliato scusa Ok 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 no Il counter non può counterare lo sparo Ok Ok Ah no Di pochissimo È arrivato l'altro Vabbè giustamente Ah giusto Adesso pure la suprema Ma dov'è cavolo è andato No no Ma sei serio Due superi Debrano Comparmi Cioè si è messo di mezzo Pure l'incendio